Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. In qualità di divinità del canale, mi sento il dovere di prendere la parola. Fedeli, se questo video dovesse raggiungere i 1500 like, il divino in persona farà partire un progetto in cui intervisteremo tutte le triadi di leggendari che esistono in questo mondo, ma solo se voi fedeli dimostrerete la vostra devozione e il desiderio forte di vedere questi video, quindi lasciate un bel mi piace. Dedociocripi, puoi iniziare l'intervista. Nome Merda John Frog Semaforo Specie di Pokémon a cui appartieni Anche se in teoria sarebbe una bestemmia, io sarei un Farfetch. Sono un po' Alivrat, anche se nessuno suole più chiamarmi così. Metagross Nickname I fedeli sono soliti chiamarmi il divino. In molti mi chiamano l'eroe per via delle mie grandissime doti. Nessuno ha mai usato darmi il nickname perché sanno che mi innervosisco da un momento all'altro. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto Creepy? La prima volta che ho visto Creepy ho pensato Lui è quello giusto. A lui affiderò il mio culto. Ho pensato Ma questo che cazzo ci fai in Pokémon in Harritens? Ho pensato quanto cavolo posso essere ritardato qualcuno che ha giocato quella Kron veramente. E la prima volta che hai visto loro due? Ho pensato che sarebbero stati degli alleati molto preziosi per diffondere la mia religione. La vera religione. La prima volta che ho visto loro due ho pensato del divino che era incredibilmente luminescente. Di semaforo con questo ci litigherò sicuramente. Ho pensato che ci sarei sicuramente andato in disaccordo. E effettivamente è quello che è successo per alcuni tratti. Qual è stata la serie del Creepy che hai preferito? Essendoci apparso per la prima volta direi la Soulink a Pokémon Arre Argento con il Roachet senza ombra di dubbio. Beh la serie del Creepy che ho preferito credo sia stata Pokémon Insurgence visto che comunque sono stato uno dei Pokémon più importanti. Poi ovviamente sono morto ma questa è colpa di Creepy non mia chiaramente. Boh non lo saprei visto che non lo seguo ma intuito direi l'Elimination Nuzlocke a Pokémon Rosso Fuoco dove sono morto dopo dieci minuti. Quella serie. Descrivete Creepy con due aggettivi. Descrivere Creepy con due aggettivi è difficile ma io direi devoto e sicuramente con una grande forza di volontà. Creepy con due aggettivi direi sbadato e però dai è bravo. Creepy con due aggettivi? Beh l'odio quindi oserei dire fastidioso e pedante. In che serie sei apparso per la prima volta? Come ho detto prima la prima serie in cui sono apparso è stata la Soul Link a Pokémon Ore Argento con Luke. Come sostenuto prima sono apparso per la prima volta su Pokémon Inheritance? Sì è molto triste come cosa. Per la prima volta sono apparso in Pokémon Inheritance e sì mi vergogno di ciò. È stato traumatizzante? Beh non è stato particolarmente traumatizzante. Di certo non mi aspettavo il tipo di reazione che ha avuto Creepy ecco. È stato molto traumatizzante. Quello non sa lottare ve lo giuro. È stato veramente traumatizzante. Quel ragazzo non sa che cos'è una lotta ve lo assicuro. Hai mai scritto un libro? Beh tecnicamente tutti i libri sacri che sono stati scritti sono stati scritti da me. No no non ho ancora scritto un libro ma prima o poi arriva sicuro. No non ho mai scritto un libro. Ha malapena so leggere. Ucciso qualcuno? Beh vuoi mettere? C'è l'intera Bibbia che parla di come io abbia ucciso le persone. Eh ne ho uccisi una caterva. Ho ucciso un sacco di Pokémon e anche umani. Sia dalla parte del Creepy che i suoi avversari. È stato inebriante. Utilizzato la tua fama per rimorchiare? No le divinità non si attaccano a questi beni materiali. No 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 questo questo no questo no. Non mi serve utilizzare la mia fama. Purtroppo o per fortuna le persone sono sempre vicine a me. Diffuso il verbo del divino su altri canali. Spesso sono apparso ma non sempre ho ricevuto le attenzioni che meritavo. Ci ho provato ogni tanto sono andato sul canale di Luke però è più bravo il divino a fare queste cose. No sono sempre stato sul canale del Creepy. Io ho sempre diffuso qui la vera fede. Rischiato la morte. Alcuni dicono che io sia morto. Voi accennate almeno così sembra. No io sono ancora in circolazione. Rischiato la morte sono morto a volte nelle serie. Ma sempre per colpa di Creepy queste cose. Io non è colpa mia giuro. Sono morto letteralmente molte volte. Spesso il potere del divino è riuscito a fermare la mia ira ma solo sacrificando la mia vita. Bestemmiato. A volte mi capita di inveire contro me stesso ma non so se questa conti come una bestemmia in quanto io sono Dio. No non si bestemmia il divino perché altrimenti mi cacciano dietro a nessuno. A volte in punto di morte mi è capitato ma mi sono pentito comunque. Ma se il divino è il vero Dio Arceus chi è? Arceus non è altro che un impostore che ha tentato di soggiugare i popoli e allontanarli dalla vera fede. No è un falso, è un falso, ha copiato il divino. Non ho idea di chi sia questo Arceus di cui parlate, è un nuovo panino? E come lo mettiamo con tutta la mitologia antica e le scritture e i luoghi sali? Sono tutte fandonie, ve lo posso assicurare, sono fandonie, non ci credete. Ok ok, suscettibili oh. Vabbè proseguiamo dai, gusto di gelato preferito. Ma che razza di domanda è? Vuoi venire tu a fare l'intervista? Adesso ti fulmino. Ok va bene dai, continuiamo su. Chi tra di voi è il più forte? Io sono il più forte ovviamente. Eh, mi tocca dire il divino purtroppo. Il divino? Il più intelligente. Beh vuoi mettere ho creato l'universo intero? Che domanda stupida, sono io ovviamente. È sempre il divino, non ce l'è. Purtroppo il più intelligente tra di noi è sicuramente il divino. Il più irascibile? Il più irascibile è sicuramente il semaforo. Quello ogni volta che si prende male veramente impazzisce. No, qui semaforo assolutamente. Veramente, quando si nervosisce non lo reggio più. Molti dicono che sei io il più irascibile. Oh, cazzo guardi! Il più egocentrico. Direi John Frog. Appare spesso nelle serie del creepy. Vuole tutta l'attenzione su di sé. Non a caso si chiama l'eroe, che ha sempre l'attenzione nelle opere. Quindi, beh, direi lui. Più egocentrico? Forse io. Forse io. E rispondere che sono il più egocentrico a una domanda sull'egocentrismo lo confermo. Il più egocentrico è sicuramente quello infame di John Frog. Ogni volta che appare in una serie ci toglie tutta l'attenzione di dosso. A volte non lo sopporto. Il più antipatico. Sfida molto difficile, ma direi semaforo. In quanto, veramente, quando si incazza sembra una donna mestruata. Diventa insopportabile. No, assolutamente semaforo. No, veramente insopportabile. Il più antipatico. Molti dicono che sia io. Però ritengo che sia proprio John Frog per questo suo atteggiamento pedante e fastidioso. Di apparire ovunque. Non lo reggo più. Chi è il più bello tra Creepy e Rochett? Mi dispiace perché il Creepy è stato l'eletto. Ma appena ho visto Luke, il mio cuore pennuto si è subito innamorato. Quindi devo per forza dire a Rochett. Eeeh... Eeeh... Eeeh, niente, Rochett. Giusto per fare un dispetto al Creepy, visto che mi dà fastidio, dico Rochett. Anche se in realtà non so chi sia. Mi sento offeso. Salutate e chiudiamo questo video, va. Un saluto a tutti voi fedeli. Mi raccomando, non dimenticatevi mai di dedicarmi la vostra preghiera giornaliera per la crescita di questo canale e della nostra fede. Un saluto a tutti i fedeli del culto, con la speranza che andiate avanti, come adesso dovete sospendere la nostra fede. Non vedo l'ora di vedervi nelle prossime serie dove apparirò sotto altre forme misteriose. Ciao a tutti. So che forse vi sarà sembrato particolarmente scorbutico, ma è nella mia natura di irrascibile. In realtà io voglio bene a sti due stronzi, in particolare al divino, visto che ha potere di vita e di morte sulla mia persona. In ogni caso ci becchiamo alla prossima serie, quando ovviamente mi deciderò a riapparire. Bene ragazzi, l'intervista può dichiararsi conclusa. Io spero che vi sia piaciuta. Mi spiace purtroppo per le animazioni abbastanza tristi dei Pokémon intervistati, però purtroppo ragazzi, rispetto agli scorsi episodi non sono riuscito a trovare una GIF decente su internet e quindi ho dovuto gestirmi io creando delle animazioni anche abbastanza penose, con le mie pessime abilità di editing. Spero comunque di non aver reso il video troppo orribile e di averlo comunque mantenuto godibile. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un bel mi piace e vi invito a raggiungere i 1500 like. Se volete vedere le altre interviste triple con tutti i tree di Pokémon leggendari all'interno del mondo Pokémon, quindi Raikwaza, Groudon, Kyogre, Dialga, Palchi e Ghirateina, insomma giù di lì. Inoltre vi invito a lasciare un bel commento dicendomi chi avete preferito in questa intervista e un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti. Vi invito a passare dai social come al solito per rimanere sempre aggiornati e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!